Arrivata l'investitura ufficiale da parte sia di Vincent Fanini e sia di Nazerio Pagano, ricordiamo il coordinatore regionale di Forza Italia, per la candidatura alle comunali di Giulia 9 da parte di Costantino. Sì, io non ne avevo alcun dubbio, ringrazio. Si aggiunge alla proposta di candidatura che viene dalla base da un polo civico che da tempo mi sta supportando. Quindi, oltre al polo civico, si aggiunge l'investitura da parte del partito che ho rappresentato, penso, in maniera egregia in questi cinque anni in Consiglio Comunale. Oltre a Forza Italia, ricordiamo che ad appoggiare Costantino ci saranno, almeno per ora, altre tre liste civiche. Sì, ci sono tre liste civiche molto importanti che rappresentano un attimo quelle che sono le realtà territoriali, soprattutto per dei temi, degli aspetti, a me molto cari, che sono i giovani e il turismo. Al momento però con le altre coalizioni centra e resta non è possibile o almeno, non sarà possibile unirsi. Ma questo io sinceramente non lo so dire. In questo momento noi cerchiamo di dare un'offerta politica differente alla città di Giulianova, come abbiamo fatto nel corso di questi anni. Qualcuno rifiuta il dialogo, ce ne faremo una ragione e andremo avanti per la nostra strada, cercando di dare ai cittadini, ripeto, una Giulianova diversa rispetto a quella che hanno vissuto negli ultimi cinque anni. Il perché di creare questa lista civica, ricordiamo Giulianova per il turismo è il nome, e il perché di appoggiare Ivan Costantino? Allora, noi crediamo che attraverso il turismo si possa rilanciare in realtà un'immagine nuova di Giulianova e portarla verso un percorso di rinnovamento e cambiamento. Riteniamo che Ivan sia la persona adatta per raggiungere questi obiettivi. Ha lavorato tanti anni a temi, a argomenti, è un ragazzo giovane, è un ragazzo che crede veramente nel cambiamento e crede anche tanto nel turismo.